In Liguria il 13% dei sinistri stradali è causato dallo scontro tra un veicolo e un animale selvatico, incidenti che in molti casi procurano gravi danni alle persone e si rivelano letali per l'animale. E' proprio nelle strade statali e comunali extraurbane che si registra il maggior numero di sinistri causati da cinghiali e da altri ungulati, con una frequenza media annuale di circa 70 incidenti. E' quanto stima la Coldiretti Liguria su dati Istat in occasione dell'approvazione di un provvedimento della regione Lombardia con cui viene data per la prima volta la possibilità agli agricoltori provvisti di regolare licenza di abbattere i cinghiali tutto l'anno ampliando di fatto l'attività di contenimento. La delibera, sottolinea Coldiretti Liguria, è stata approvata per contrastare il proliferare esponenziale di cinghiali e per tutelare la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle colture. L'abbattimento deve avvenire in condizioni di sicurezza. Il proliferare in contrastato dei cinghiali e degli altri animali selvatici sempre più vicini ai centri abitati alla ricerca di cibo, secondo i vertici Liguri di Coldiretti, non è un problema delle sole aziende agricole, ma è un problema di ordine pubblico, di sanità e sicurezza. Il numero di animali selvatici in Liguria, secondo le stime, è raddoppiato negli ultimi dieci anni. Per questo l'Associazione degli Agricoltori Liguri auspica che anche in Regione Liguria venga adottato un provvedimento simile a quello lombardo. Una richiesta però destinata a far discutere e non solo animalisti e ambientalisti, ma anche chi vede come un pericolo la possibilità di vedere le doppiette cariche per tutto l'anno.